Buonasera a tutti, a quest'ora siamo distrutti, quindi cercherò di essere abbastanza, come dire, un po' più leggera, sebbene il mio intervento è anche un po' tecnico. Però, diciamo, visto che alcuni temi effettivamente sono stati toccati, anticipati prima, sono contenta poi di poter fare dei piccoli deep dive proprio dal punto di vista tecnico. Prima di tutto però volevo ringraziare tutte le presentazioni sentite finora, gli interventi perché veramente interessanti, fondamentali e importanti e infatti poi in qualche modo li riprendo. Allora, io lavoro appunto nel B2B, nella parte strategic partnership e iniziative di sviluppo. Questo praticamente, io vado immediatamente a questa slide, perché? Perché Eni, come sapete ormai l'avete sentito anche oggi, ha proprio come strategia aziendale la decarbonizzazione, la neutralità carbonica al 2050. Per fare questo, ovviamente, ha dovuto pensare alla decarbonizzazione non solo dei processi interni, ma anche dei processi, praticamente quelli cosiddetti gli scope 3, quindi dei fornitori, dei distributori, dei clienti. Quindi, facendo in tal modo, si è dotata di un portafoglio di sostenibilità, quindi prodotti, servizi, ma anche soluzioni tecnologiche, anche tailor made, vastissimo, in tutti i suoi campi. Ovviamente a questo punto serviva, come dire, un ponte, un appunto, un ponte tra quelli che erano tutto il portafoglio sostenibile Eni, che come vedete appunto, io ho messo un po' giù quelle che sono, penso ormai un po', le sono state richiamate pure oggi, Plenitude, Versalis, EniLife, ma anche la parte nostra, appunto, del CCUS, che pure è stata richiamata dalla dottoressa, ma è anche la parte tecnologica, perché la nostra ricerca è sempre pronta a dare anche dei nuovi sviluppi, appunto. Questo per poter offrire all'eventuale partner, e poi vedrete tante partnership abbiamo, appunto, stretto, e per offrire proprio tutto ciò che serve per dare una decarbonizzazione a 360 gradi, perché la decarbonizzazione non si ottiene con uno, con un solo strumento, ma si ottiene, mi rifaccio anche al professore prima, si ottiene ovviamente con una serie di soluzioni integrate, e quindi, qua vado infatti poi velocemente alla slide successiva, qua è importante stringere partnership, ecco perché appunto sono così anche orgogliosa di rappresentare questo mio ruolo, perché tutto, tutto porta, appunto, all'obiettivo primario, net zero al 2050. Quindi, anche per esempio, l'approccio che noi abbiamo per la decarbonizzazione nel settore, appunto, trasporti, siamo nel panel, appunto, sulla mobilità, è un approccio che deve considerare tutto il mix delle soluzioni, non può considerarne una sola. Questo significa, in sostanza, un po' perché, appunto, tra l'altro il settore dei trasporti, condivido, è strategico ed è importantissimo, è proprio sfidante, perché stiamo parlando del 25% delle emissioni, lo ricordo, quindi non è una cosa banale. Come praticamente noi, che cosa consideriamo? Le consideriamo tutte le soluzioni tecnologiche, in base a che cosa? In base alla maturità tecnologica e ai contesti. Questo significa, ad esempio, come dicevamo, l'elettrico è un'ottima soluzione, però bisogna vedere dove applicarla. Quindi, nella mobilità urbana, benissimo, soluzione ottimale. Nella mobilità, ovviamente, extraurbana, già c'è un po' più di problemi sulla sicurezza di approvvigionamento, intendo dire. Ovviamente, la vediamo un po' a distante per quello che parliamo, per esempio, nell'aviazione, ad esempio. Poi, anche l'idrogeno. L'idrogeno, ecco, come vedete, nell'asse delle ordinate io ho messo quello che è il fattore, diciamo, della readiness, la maturità tecnologica. Di conseguenza, possiamo vedere ciò che è già disponibile, quindi, appunto, anche economicamente, prima si è parlato tanto della just transition, qualcosa che deve essere anche economico, quindi un approccio non solo operativo, tecnologico, ma anche economico e finanziario, ovviamente. Quindi, la parte disponibile, la parte, diciamo, a medio termine e la parte a lungo termine. E qui condivido l'idrogeno, per esempio. L'idrogeno che può affacciarsi sicuramente, poi, anche nel trasporto pesante, nella marina. Però, da questa slide, effettivamente, disponibile, economico, noi vediamo solamente i biocarburanti, effettivamente. Perché sono, praticamente, una soluzione, effettivamente, drop-in, quindi che non ha bisogno di modificare quelle che sono le infrastrutture, quindi intendo sia nel veicolo, ma anche nella logistica, quindi i serbatoi e quant'altro, e che può essere applicata un po' in tutti i settori, compresa l'aviazione, dove, appunto, il biocarburante sostenibile, quindi il sustainable aviation fuel, è comunque un biojet. Giusto per dare, ma proprio un flavor di quello che noi, come facciamo noi il biocarburante. Perché, poi vedrete, a volte c'è un po' di misleading tra quello che è il nostro biofuel e magari anche il fame, il cosiddetto biodiesel, però vi volevo solo fare un attimo di un'introduzione veloce sulle differenze. Quindi mi serve parlare un attimino di quella che è una biorefinery. Prima di tutto c'è una sezione, ovviamente, di trattamento e prima, appunto, si parlava dei nostri agri hub, eccetera, e quindi noi abbiamo una filiera integrata, no? Un po' Eni ha sempre avuto questo spirito, noi abbiamo sempre avuto la parte, diciamo, dell'up stream fino al downstream. Anche adesso riusciamo ad avere, appunto, una soluzione verticale integrata. Quindi parliamo di quelle che sono, innanzitutto, i feedstock ora di seconda generazione. Seconda generazione intendiamo waste and residue, quindi in questo contesto di circolarità va benissimo. perché non solo, appunto, si risolvono problemi, in qualche modo, di smaltimento, ma creiamo, creiamo, in qualche modo, appunto, dei fuel sostenibili. E quindi noi, quando parliamo di seconda generazione, intendiamo, appunto, gli oli fritti usati. Mi pare che prima, appunto, pure questo è già stato citato, però ecco, per metterlo un po', un attimo in fila della nostra biorefinery, questo è uno schema molto macro, eh, ovviamente. ma anche scarti, appunto, scarti dei vari processi, dei processi, ovviamente, anche, appunto, per quanto riguarda, poi, degli oli vegetali, vedremo come. Quello che è importante che volevo dire in questa slide, innanzitutto, è che gli hydrotrite e il vegetable oil che escono da una biorefinery sono di vario tipo, quindi c'è dell'LPG, il GPL, della nafta, appunto, del SAF, e di quello che ormai conoscete un po' meglio, sicuramente, perché sta in oltre mille stazioni di servizio in ENI, quindi è diventato abbastanza capillare, ecco, per fortuna, quindi vuol dire che c'è richiesta. E viene fuori da un processo, principalmente, di deossigenazione e disomerizzazione. La deossigenazione è importante proprio perché, non vi preoccupate, non vi parlo di chimica, seppure la mia estrazione è quella, sono un ingegnere chimico, però non è quello che voglio. Quello che vi voglio far vedere, appunto, è che tramite il processo nella biorefinery, l'HVO che, appunto, viene da questo processo, effettivamente viene, come vedete, le molecoline, la molecola più a destra, è senza ossigeno. Praticamente, tramite questo processo di deossigenazione, noi abbiamo una molecola del tutto simile a quella che viene fuori da un gasolio fossile. Questo significa una maggiore stabilità, questo significa immiscibilità con l'acqua, significa che non produce le morchie, insomma, tutti quei problemi che, effettivamente, nel biodiesel li abbiamo riscontrati e, infatti, non si può usare in purezza, cosa che, invece, con l'HVO si può usare in quasi tutte le applicazioni, tranne, appunto, l'avio, si può usare in purezza. E anche, però, altre caratteristiche ambientali importanti che non contiene zolfo, non contiene, da qui un po', magari se c'è qualche chimico lo vede, non contiene aromatici e pori aromatici, senza stare a spiegare che cosa, comunque molecole impattanti per la salute, anche, non solo per l'ambiente. Feedstocks, spesso mi viene richiesto, appunto, vabbè, ma ci sono i feedstock, poi, per fare praticamente questa transizione? Effettivamente, allora, dicendo, appunto, che la first generation ormai noi non la consideriamo, infatti già dal 2022 non usiamo i cosiddetti olio di palma, perché questo, appunto, stava ingenerando, questo, diciamo, è stato portato avanti già dall'Unione Europea, no? Di bannare però al 2030 l'olio di palma. Noi abbiamo anticipato i termini e quindi non lo usiamo più. Stava creando delle distorsioni a livello di mercato, perché, ovviamente, tutto diventava, deforestavano per fare l'olio di palma e, comunque, dei prezzi elevatissimi anche nella filiera alimentare, agroalimentare. Quindi, l'abbiamo tolti. Allora, noi, in sostanza, consideriamo la prima parte, come vedete, waste and residue, questi sono dati dei forecast della McKinsey al 2050, con tutti gli studi che, ovviamente, si stanno portando avanti. Saranno circa 40 milioni di tonnellate anno e, principalmente, appunto, come dicevo prima, addirittura in Kenya abbiamo fatto una sorta di consorzio, diciamo, per raccogliere, no? Tutti da alberghi, da hotel, da catering, appunto, il used cooking oil, ad esempio, ma anche quelli che sono chiamati vegetable. Attenzione che non sono i vegetable, appunto, per la filiera mangimistica e alimentare, dico pure mangimistica, quindi c'è un'attenzione particolare, ma sono, appunto, quelle, per esempio, che derivano o dai cover crops, cioè sarebbero, praticamente, le colture che vanno a essere utilizzate tra una coltura principale alimentare e un'altra, che, anzi, fanno bene al terreno, diciamo, proprio per renderlo più efficiente e, comunque, non, appunto, alimentare, come la camellina, oppure, ad esempio, quelli da terreni desertici degradati, come può essere, appunto, il ricino. E quando si parla di agriculture residue, parliamo, appunto, di questi oli che vengono estratti, ad esempio, dagli scarti dei gusci, degli anacardi, quindi questo. Il totale porta circa 200 milioni di tonnellate al 2050. la previsione della domanda dei renewable fuel al 2050, sempre dalla McKinsey, è di circa, tra SAF e diesel, di circa 130 milioni di tonnellate, quindi, comunque, appunto, e, ovviamente, andiamo sempre avanti con la ricerca dal punto di vista feedstock da utilizzare in queste biorefinery. Ma non solo, però, non è solo il feedstock, poi, però, stiamo andando avanti anche dal punto di vista di conversione delle raffinerie tradizionali e, anche in altri paesi, ovviamente, non solo in Italia, proprio per cercare di avere maggiore capacità di lavorazione di quei feedstock là. infatti, pure stamattina, anche Marcello accennava che siamo stati, appunto, tra i primi, quando proprio di sostenibilità non se ne parlava, a convertire la prima biorefinery a gel, appunto. Addirittura lo startup è stato nel 2014, fino ad arrivare, appunto, in questi giorni proprio si è parlato dell'avvio della biorefinery a Livorno. Quindi, diciamo che il Forecast è quello, il trend, sarà quello di passare dai nostri, le attuali, un milione virgola 65 tonnellate di capacità da materie prime rinnovabili, fino al 2030, cioè domani, perché, comunque, già siamo quasi al 2025, praticamente a 5 milioni di tonnellate. quindi questo è per dire, appunto, che dal punto di vista biocarburanti è, appunto, una soluzione che non solo è economica, ma è disponibile e sarà disponibile e sicuramente ci aiuterà a traghettare in questa transizione, sicuramente. Però, come dicevamo, appunto, noi non guardiamo solamente una soluzione, perché anche l'idrogeno, è già stato detto prima, ha un ruolo fondamentale. Soprattutto Eni, per esempio, è stata sempre, diciamo, uno dei primi consumatori dell'idrogeno, avendo, comunque, degli asset delle raffinerie, così come la chimica. E l'idrogeno, per esempio, è importante anche nei settori cosiddetti art to abate, dove la decarbonizzazione, in maniera, diciamo, con l'elettrico, l'elettrificazione è impossibile per le altissime temperature, per esempio, dei forni. Quindi, anche in questo, noi ci stiamo muovendo, proprio per il discorso idrogeno green. Ad esempio, abbiamo pure già aperto a Mestre, nel giugno 2022 addirittura, la prima stazione di servizio, proprio per il rifornimento di idrogeno, aperta al pubblico. Poi, un'altra cosa che, a questo punto, che cosa manca, diciamo, al discorso che ho fatto inizialmente. Ok, tante soluzioni, altre non le dico perché verranno i miei colleghi, e mi fa piacere che le espongano loro, che sono direttamente delle linee di business. Quindi, parliamo della chimica verde, come parliamo appunto dell'elettrico, del fotovoltaico, quindi di vari tipi di efficientamento energetico, eccetera. Però, un altro strumento importantissimo, è che ENI è parte attiva, ha proprio creato dei tavoli importantissimi, sono proprio, appunto, queste partnership, dove, in sostanza, attraverso, diciamo, dei tavoli di lavoro, abbiamo e stiamo condividendo delle roadmap, proprio per poter individuare le soluzioni e quindi avere un consenso, non solo, ovviamente, dalla parte tecnica, ma anche dal punto di vista, cioè, dagli stakeholder più importanti, che sono l'industria, ma che sono anche le istituzioni accademiche, che sono, ad esempio, le associazioni di categoria. Cioè, noi condividiamo in questi tavoli, sia sulla parte, appunto, avio, cioè il patto di decarbonizzazione del settore aereo, per quanto riguarda il mare, l'insieme per la decarbonizzazione del mare e la decarbonizzazione del trasporto terrestre, condividiamo, appunto, le scelte tecnologiche, però, in un ambito dove, appunto, si può studiare la soluzione nella maniera proprio più efficiente ed efficace. Questo significa, per esempio, nel patto della decarbonizzazione del settore aereo, che nasce con ADR, però al tavolo, appunto, ci sta anche Airbus, c'è ITA, c'è Boeing, ma ci sono, ovviamente, ecco, c'è ENAC, eccetera. Per quanto riguarda la decarbonizzazione del mare, appunto, studiamo, perché la decarbonizzazione del mare, appunto, prima, non so se vi ricordate la prima slide, con tutte le soluzioni tecnologiche possibili. Attenzione, perché quelle veramente vanno studiate a seconda del momento. Quindi, le condividiamo, ad esempio, proprio con gli armatori, con le associazioni di categoria degli armatori, che, ovviamente, il costo, questo non lo possiamo non dire, è una anche della guida della decarbonizzazione, la just transition che dicevamo prima. Per quanto riguarda, poi, la decarbonizzazione del settore terrestre, ovviamente, la facciamo con ASPI, perché sapete che il trasporto su gomma, per quanto riguarda l'Italia, è strategico, e quindi, anche qui, stakeholder, ovviamente, di rilievo, come può essere CDP, la LUIS, anche l'Enea, che abbiamo sentito prima. Quindi, assolutamente importante. Chiudo dicendo, appunto, così una panoramica di molti degli accordi che abbiamo stretto. Quindi, sono stata abbastanza rapida, spero, vista l'orario. Facendovi vedere un pochettino che i nostri accordi spazziano, appunto, proprio per decarbonizzare, a me piace dire, la parte, appunto, in aria, quindi in cielo, in mare, in terra. Infatti, come vedete qua, abbiamo i trasporti. Per esempio, abbiamo fatto viaggiare, anche proprio con le ferrovie dello Stato, abbiamo fatto viaggiare cinque treni con l'HVO in purezza, praticamente per 700 chilometri. Quindi, proprio per testare il prodotto, non solo prove di laboratorio, ma proprio su campo, ma in ogni tipo di settore. Quindi l'HVO è anche su rotaie, in questo caso. E, appunto, come dicevo, nel manifatturiero, nella parte, appunto, dell'Avio. Quindi, effettivamente, anche uno strumento per poter parlare di una soluzione decarbonizzante net zero alla 2050 è, ovviamente, quello di portare, di avere delle partnership, altrimenti chiusi da soli, non si arriva da nessuna parte. Questo, ovviamente, è una panoramica molto veloce, però spero, insomma, di avervi dato un po' dei flavor su questi strumenti. Grazie a tutti.